Ciao amici di Italia Top Games, visto che alcuni di voi me lo chiedono io vado avanti anche con gli aggiornamenti PES 2021 ma credo che il match day anche questa settimana, quella che inizia oggi, lunedì 22 novembre, non ci porterà particolari novità nel tipo di match day che possiamo affrontare comunque andiamo a vedere, in pochi minuti cerchiamo di vedere tutto 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 allora andiamo un po' a vedere, casa trasferta, dettagli di competizione, vediamo esperto, 50 punti, 5000 GP, preparatori di abilità, posizioni 5040, monete MyClub il classico del classico, andiamo a vedere le squadre, in casa abbiamo le nazionali, un po' di nazionali, Costa Rica, Colombia per Uruguay, Thailandia e questo abbiamo visto, Scozia, Germania, Inghilterra, Danimarca, Belgio ovviamente sui football qualcuno me l'ha fatto notare, non c'è la Germania, chissà, questioni di diritti Croazia, Francia, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia, Svizzera e poi anche squadre africane, Egitto, Ghana e Marocco, Sud America, Argentina, Brasile, Cile, Ausia e Oceania l'Australia, tutti prenderanno l'Australia, ne sono assolutamente certo e poi andiamo a vedere se c'è qualche variazione all'interno di MyClub ma onestamente non credo, le solite 40 monete d'oro però questa settimana hanno un pochino più di senso perché ci sono di nuove icone, Arsenal, Barcellona e Juventus qualcuno mi ha segnalato che le icone sono arrivate giovedì scorso e scusatemi le persone interessate a PES 2021 rispetto ai football sono molte meno lo dicono i dati cerco di seguirli al massimo però ogni tanto potrei perdermi qualcosa controllo sempre il lunedì PES 2021 davo un'occhiata qui al League Challenge che dovrebbe essere sempre quella i premi, i premi preparatori speciali quindi non ci dovrebbero essere novità andiamo a vedere il match day le squadre sono le stesse ovviamente però utilizzereste quelle di MyClub personalizzate appunto, infatti, Austria, Belgium, Germania eccetera eccetera andiamo a vedere i dettagli della competizione esperto 50 punti 5.040 monete sempre la solita approfitto per dirvi un'ultimissima cosa qualcuno ancora fa confusione sul fatto che il prossimo 9 dicembre PES 2021 sarà rimosso dagli store con il fatto che non si possa più giocare online non è così ve lo ripeto per l'ennesima volta dal 9 novembre se voi non possedete o la versione Lite o la versione completa o una Club Edition di PES 2021 dal 9 dicembre non lo potrete più acquistare questo accadrà la chiusura dei server ancora non si sa vi ho detto altre volte la consuetudine ci dice che Konami chiude i server dopo due anni dall'uscita del gioco però con i casini enormi deliri vari tra i football PES eccetera eccetera io la data di chiusura dei server non ve la posso dare perché non si conosce però ripeto il 9 dicembre chiude lo store chiude lo store anche per le monete dal 9 dicembre non sarà più possibile acquisire monete e comprare il gioco ma si potrà continuare a giocare online fino a quando Konami non chiuderà i server spero di aver chiarito anche questa cosa quindi abbiamo visto il match day di questa settimana in PES 2021 se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo subito se avete bisogno di un abbonamento Playstation Plus a 12 mesi in questo momento su Amazon è in offertissima 39.99 euro trovate nella descrizione del video il link con cui poterlo acquistare e supportare il nostro canale il nostro sito il nostro network tutto il lavoro che facciamo su PES i football FIFA Football Manager e tutti gli altri giochi più amati dagli italiani ogni giorno grazie se volete fare questo acquisto da lì oppure se volete abbonarvi al canale da 99 centesimi al mese 3 centesimi al giorno è una spesa veramente minima oppure come vi ho detto potete acquistare l'abbonamento a Playstation Plus dal link presente nella descrizione del video a voi non costa un centesimo di più e supportate il canale in questo modo o potete fare qualsiasi altro acquisto su Amazon sempre passando da quel link al prossimo video ciao